Una società unica per uomini e donne, il titolo sportivo della Trentino Rosa passa alla Trentino Volley. Il presidente è da re, i costi aumentano. Contiamo su nuove sponsorizzazioni. Apriamo la ricca pagina sportiva regionale con un'importante novità per la pallavolo trentina. Infatti l'ITAS unirà sotto lo stesso tetto volley maschile e femminile. Silvano Ploner. Un'unica società per rappresentare volley maschile e femminile. A Trento un tentativo fu fatto già dieci anni fa dall'allora Delta Informatica. Oggi quel matrimonio diventa realtà con l'ITAS Trentino Volley che ha acquisito il titolo sportivo della Trentino Volley Rosa per il campionato di Serie A2 femminile. Unire le forze significa anche aumentare il budget e per un campionato cadetto femminile servono almeno 500-600 mila euro. Per il presidente Bruno Dare quello finanziario è l'unico aspetto che presenta qualche incognita. I costi aumentano di sicuro. I ricavi poi bisogna andarseli a trovare, però i costi aumentano. È vero che è un campionato di A2 che non costa come un campionato di A1, però i costi ci sono e vanno assolutamente recuperati sul mercato delle sponsorizzazioni. Dopo tanti anni alla presidenza, quello di oggi è anche il momento dei saluti per Roberto Postal, storica guida del volley femminile a Trento. E' anche per lui la consolazione di affidare le sue ragazze ad una società solida. Rimane tutti gli anni che abbiamo passato. Lo sport per me era la seconda parte della giornata.